Raccontare e approfondire le grandi sfide che oggi l'umanità deve affrontare e scoprire gli strumenti con cui provare a vincerle. Queste le occasioni offerte da Focus Live, l'evento che ha richiamato moltissime persone presso gli spazi milanesi del Museo Leonardo da Vinci, grazie alle offerte nel campo della scienza, della tecnologia, della medicina e della sperimentazione. Abbiamo la fortuna di aver organizzato questa manifestazione che è la prima volta che facciamo, che si chiama Focus Live, con il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Il filo conduttore di questo evento è come scegliere. Per scegliere bisogna sapere e per sapere bisogna guardare, bisogna rendersi conto di quello che abbiamo sotto gli occhi e che spesso non riusciamo a intuire o a capire. Faccio un esempio. All'interno dei padiglioni abbiamo sistemato una vasca dove c'è un apneista che sta per molti minuti senza respirare. Perché abbiamo fatto questo? Abbiamo fatto questo per far riflettere chi passa davanti a questa vasca, che sembra un tino di metallo con una vetrina, far capire a chi passa davanti quanto è importante respirare. Per cui quando smetti di respirare c'è qualcosa che non funziona, qualcosa che ti stupisce, qualcosa che ti sorprende. Poi naturalmente accanto all'apneista ci sono apparecchi di rilevazione, quindi c'è tutta una parte scientifica. Quindi non ci resta che cominciare il nostro percorso? Assolutamente sì. È un percorso che ciascun visitatore di Focus Live ha potuto o potrà scegliere come preferisce. È come un labirinto, no? In cui ognuno può scegliere il percorso che preferisce. In questo caso però l'uscita è unica, cioè l'uscita è un pensiero su dove ci troviamo e che cosa stiamo facendo e anche su che cosa ci aspetta. Grazie, dunque cominciamo. Andiamo! Grazie a tutti! Partiamo da quello che è il titolo dell'intervento, quindi che cosa si mangia, come facciamo a scoprire cosa mangiamo con il DNA? Di che cosa si tratta? Beh, si tratta di utilizzare il DNA come marcatore per controllare quali sono le materie prime utilizzate per appunto produrre questi alimenti. Quindi, per entrare un po' nello specifico? Nello specifico, tutti gli alimenti sono composti da organismi viventi, che siano piante o animali e ogni organismo vivente, come anche noi esseri umani, possiede il DNA all'interno delle sue cellule e di conseguenza nell'alimento rimane questo DNA, nell'alimento che si può ottenere appunto da questi organismi, rimane il DNA che noi possiamo controllare per avere una specie di codice a barre naturale da leggere per capire esattamente da cosa deriva quell'alimento e da quali materie prime è composto. Quindi parliamo ad esempio, non so, di una verdura. Proviamo a fare un esempio concreto. Quali sono i passaggi? I passaggi sono che all'interno di un laboratorio, ovviamente di biologia molecolare, si estrae il DNA direttamente da una porzione dell'alimento, dopodiché si sequenzia questo DNA con dei macchinari che si chiamano sequenziatori automatici e permettono di leggere l'ordine delle basi che compone questo codice genetico. Ogni codice è individuale, sia di quell'individuo come tale che di ogni specie animale o vegetale. Uno dei problemi principali per cui si fanno queste analisi, che sono le frodi, raramente avvengono ai danni di un prodotto vegetale, perché di solito hanno un valore commerciale inferiore a quello di carni o prodotti caseari, per esempio. È necessario quindi andare ad analizzare ogni volta quelli che sono i componenti? Certo, è sempre più necessario. L'unico problema è che adesso queste analisi genetiche non sono ancora obbligatorie per legge, quindi si aspetta di coprire questo buco normativo, ma comunque le aziende possono già usufruire di queste analisi come servizio per dare una garanzia maggiore ai loro clienti. Questo però può comportare anche problemi per quanto riguarda la salute dell'individuo? Il fatto di ingerire sostanze non conformi a quanto dichiarato? Certo, qui c'è un fattore di salute umana ovviamente, è uno anche ambientale, della salute dell'ambiente. La salute umana nel senso che sappiamo che alcuni alimenti di per sé sono degli allergeni e alcune persone che hanno intolleranze a allergie alimentari, se ingeriscono certe materie prime, possono avere dei problemi anche gravi di salute. L'altro fattore è quello ambientale che si evince da cosa? Si evince che quando un'etichetta riporta una scritta che dovrebbe essere ciò che è contenuto all'interno di una confezione, dovrebbe essere riferita a ciò che è contenuto all'interno di una confezione, non sempre è veritiera. Cosa significa? Che possono essere state usate delle materie prime non legalmente utilizzabili, perché magari sono di vegetali o animali a rischio di estinzione e quindi non utilizzabili per scopo alimentare umano. Quindi se noi mangiamo qualcosa che non conosciamo o a cui magari non siamo abituati ma non lo sappiamo, il nostro DNA alla lunga potrebbe avere delle ripercussioni. La neve e il ghiaccio in alcune aree del pianeta registrano quello che è stata la composizione dell'atmosfera del passato e quindi registrano in maniera molto fedele i cambiamenti climatici che sono avvenuti decine, centinaia, migliaia, addirittura centinaia di migliaia di anni fa. Abbiamo dei siti in giro per il mondo, soprattutto in Antartida e in Groenlandia, che registrano la temperatura e le forzanti climatiche, quindi la concentrazione di gas serra, addirittura per 800 mila anni. Quello che vediamo qua cos'è? Questo è un carottiere, è un sistema che utilizziamo proprio per prelevare i campioni di neve e ghiaccio, in questo caso superficiali, vuol dire fino a una profondità di circa una ventina di metri. Lì il tubo carottiere taglia la neve e il ghiaccio e fa entrare il campione all'interno del tubo stesso, che poi viene prelevato, datato e studiato attraverso metodi di analisi chimiche. Che cosa è emerso da questi studi, anche perché di gas serra si parla molto anche oggi? Ma è emerso, ad esempio, per quanto riguarda i gas serra, è stato proprio grazie allo studio sulle carote di ghiaccio che abbiamo capito che le concentrazioni attuali di gas serra ed atmosfera non hanno mai avuto un precedente nella storia climatica del nostro pianeta, almeno negli ultimi 800 mila anni. E quindi stiamo veramente spostando il sistema del nostro pianeta in una condizione che non ha mai avuto prima fino all'epoca industriale, dove le concentrazioni di NID decarbonica sono aumentate inesorabilmente da circa 280 parti per milione fino alle attuali oltre 400 parti per milione. E i cambiamenti climatici purtroppo li vediamo, anche gli effetti vediamo, anche recentemente? Ma ormai è acclarato che le elevate concentrazioni di gas serra siano le responsabili dell'aumento di temperatura abbiamo circa un grado di temperatura media, globale, rispetto all'epoca preindustriale il livello del medio mare sta aumentando in maniera molto rapida gli eventi estremi sono via via sempre più frequenti, quindi valori siccità piuttosto lunghe e poi precipitazioni concentrate molto intense in periodi molto molto brevi oltre poi a ondate di calore che sono via via sempre più frequenti quindi è grazie a questi studi sul clima del passato che riusciamo a mettere in una giusta prospettiva quello che sta avvenendo oggi. I gas serra non sono nient'altro che una coperta che la nostra atmosfera ha e questa coperta mantiene la temperatura del pianeta, quindi della superficie della Terra entro certi valori. Se non avessimo questa coperta di gas serra in atmosfera la temperatura media del pianeta sarebbe invece che più 14 gradi sarebbe di meno 15 gradi sotto lo zero ed è un po' lo stesso effetto che ha un piumino sul letto io ho un piumino, se ho un piumino leggero questo trattiene poco la temperatura all'interno del letto se ho un piumino molto pesante ovviamente la temperatura all'interno del letto sale perché sono io stesso col mio corpo che riscaldo l'ambiente che viene mantenuto da questo strato isolante quindi se io aumento la quantità di piume o aumento la concentrazione di gas in atmosfera aumento la temperatura del letto ma aumento la temperatura anche della Terra nella corrispondenza. Sembra addirittura che le previsioni siano in anticipo rispetto a quello che si era preventivato per quanto riguarda l'aumento di temperatura sul riscaldamento. Più che altro ci accorgiamo solo quando abbiamo degli eventi estremi come quelli di questi giorni allora veramente ci rendiamo conto che siamo impotenti verso quello che abbiamo magari causato anche noi stessi e dovremo abituarci in futuro sempre più spesso ad eventi estremi sia di precipitazioni sia di alluvioni sia di ondate di calore durante i periodi estivi. Buon pomeriggio Alessandro Buon pomeriggio a voi Cosa stiamo vedendo? In questo momento io sono un specialista in un ospedale e mi sto collegando in un altro ospedale per fare una televisita o un teleconsulto Quindi questo è molto utile in ambito medico? Esatto, viene utilizzato negli ospedali e soprattutto in corsia. Grazie, grazie mille Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Parliamo di virus facendo una sorta di fotografia della situazione attuale per quanto riguarda il numero di questi virus, la loro pericolosità, quali sono dunque quelli da cui dobbiamo stare più attenti? I virus di interesse umano sono veramente tanti e complessivamente possono colpire qualunque organo dell'organismo per cui noi abbiamo un'attenzione massima sui virus respiratori, su virus che danno sindrome neurologiche, su virus epatitici, l'HIV ad esempio o virus che colpiscono gli immunodepressi Tutti questi agenti sono una sfida perché sono veramente tanti e con manifestazioni cliniche diverse Alcuni di questi hanno una terapia farmacologica ma è importante sapere in quali soggetti somministrarla, in quali casi e con quali farmaci Altri virus purtroppo non hanno ancora una terapia farmacologica ma hanno la possibilità di una prevenzione tramite una vaccinazione Per altri virus invece c'è un discorso di sorveglianza soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo di nuove infezioni virali per esempio dal mondo animale come questi virus trasmessi dalle zanzare che stanno diciamo ormai colpendo la Lombardia da qualche anno, da 4-5 anni e che noi controlliamo periodicamente. Su questo versante c'è un impegno importante da parte della regione Lombardia coordinato da parte degli ospedali, il nostro centro di riferimento, veterinari per il controllo dell'infezione nelle zanzare e nel serbatoio naturale che sono alcuni uccelli. Quindi il mondo animale è importante in questo settore? Assolutamente sì, il mondo animale è il punto di partenza di tutte le infezioni che poi vengono viste nell'uomo per esempio l'influenza, noi siamo abituati a conoscere i ceppi che circolano tutti gli anni l'H1N1, l'H3N2 che sono solo alcune delle influenze che circolano al mondo dobbiamo pensare che esistono più di 200 tipi di influenza diverse, di genotipi di influenza A che circolano nel mondo animale, quindi i riassortimenti e questi cambi genetici all'interno di questi virus possono poi in qualche modo fare il passaggio di specie, saltare all'uomo e creare degli eventi anche pandemici che al momento noi non possiamo in qualche modo prevedere la lezione del 2005 dove il virus H5N1 era quello che noi potevamo considerare essere il più letale perché era un virus aviario con una alta mortalità e che aveva dato circa il 30% di morti nelle persone infettate circa un migliaio tutti noi esperti del settore pensavamo che il virus H5N1 potesse essere il ceppo che poi avrebbe dato una pandemia nel 2009 siamo stati smentiti perché un ceppo di origine suina è stato quello, un H1N1 è stato poi quello che ha circolato nella popolazione Questi cambiamenti a cosa possono essere dovuti? Ma è molto difficile da dire, sono dovuti a volte al caso, a volte alla coincidenza di diversi fattori sicuramente il mondo animale e il mondo umano si toccano ci sono molti ambiti in cui queste sovrapposizioni stanno cambiando anche in ragione dei cambi climatici ma ad esempio ci sono virus nuovi che stanno arrivando perché c'è una popolazione di cinghiali, di cervi che sta aumentando anche da noi, nelle nostre zone dovute al fatto che molte colture, molti terreni coltivati stanno tornando ad essere terreni incolti e quindi la popolazione selvatica riprende possesso di queste zone e con loro i virus che si trasportano e che possono poi essere trasmessi all'uomo Qual è il modo più pericoloso in cui possono essere trasmessi? O il più efficace tra virgolette in questo caso? Sicuramente la via respiratoria è la via più semplice nel senso che una volta che poi questi virus arrivano nell'uomo che hanno la possibilità di trasmetterli per via respiratoria, per via aerea è chiaro che questo è il metodo più veloce perché ormai con i metodi di trasporto che noi abbiamo un aereo arriva dall'altra parte del mondo in 24 ore per cui se la fase di incubazione di questi virus è di 1, 2, 3 giorni e quindi ci si muove all'interno di una dimensione che è quella mondiale con un aereo, con altri mezzi possiamo ben capire che un virus che si trasmette per via aerea può essere potenzialmente trasmesso in tutto il mondo La storia cosa ci insegna? La storia dell'evoluzione? Ci sono contatti? La storia dell'evoluzione ci insegna che l'umanità sopravviverà a qualunque infezione virale perché per ora ha dimostrato che nessuna infezione virale è letale al 100% Ci insegna anche che i virus si adattano all'uomo e più si adattano e meno aggressivi diventano quindi i virus più evoluti sono quelli che danno una patologia di solito più bassa Ci insegna anche che noi abbiamo un sistema immunitario che è efficace nel combattere queste infezioni e quindi una stimolazione di questo sistema risulta un mezzo molto utile per il controllo delle infezioni stesse Nella nostra tradizione culturale abbiamo sempre avuto la tendenza a distinguere quello che è corpo e quello che è mente come due domini separati In realtà oggi le nuove conoscenze scientifiche che ci permettono di studiare come il corpo influenza l'attività del cervello stanno dimostrando che la mente è sempre influenzata dalle informazioni che arrivano dal corpo in particolare il sistema gastrointestinale quindi tutto quello che succede dallo stomaco fino all'intestino ha influenza sui nostri processi emotivi e decisionali Abbiamo due sistemi quindi nel nostro modo di decidere dei sistemi più puramente razionali che dipendono dalla corteccia cerebrale cioè dalla parte del cervello più recente dal punto di vista evolutivo e dei processi decisionali, i cosiddetti processi di pancia che dipendono invece dall'attività, da questa informazione che deriva dal resto del corpo La cosa interessante è capire quando possiamo fidarci dei nostri istinti di pancia e quando invece è meglio lasciare stare e usare solo la nostra mente razionale per prendere decisioni Quello che stiamo capendo negli anni è che le decisioni che derivano dalla pancia sono decisioni che sono affidabili quando riguardano situazioni a cui siamo stati esposti molte volte Cioè situazioni in cui siamo abituati a valutare l'ambiente che ci circonda ripetutamente senza necessità di un training specifico, quindi di un'educazione alla situazione sono quelle occasioni in cui le nostre sensazioni di pancia abituate a questa sensazione ripetuta diventano efficaci Tutte le volte invece in cui siamo davanti a situazioni nuove a cui non siamo abituati il processo decisionale della mente, del cervello è molto più affidabile Quali sono i meccanismi che fanno scattare l'uno o l'altro? Che cosa a livello fisico, fisiologico? Allora, le decisioni di pancia derivano dall'integrazione di tutte le informazioni del corpo perché nel nostro processo evolutivo ci siamo abituati a prepararci a una serie di risposte di fuga, per esempio, o di attacco a seconda della situazione Quindi il nostro cervello è abituato a capire molto rapidamente se una situazione è positiva o negativa richiede una reazione di fuga o una reazione di attacco o nessuna reazione Tutti i nostri processi di decisione di pancia funzionano sempre A volte la mente razionale prende in considerazione questi input a volte decide di scartarli come informazioni non rilevanti La cosa interessante dal nostro punto di vista è che la mente razionale utilizza sempre in qualche modo, guarda sempre a questi input e quindi è molto importante riuscire a distinguere come avviene la selezione da parte del cervello razionale se utilizzare o no queste sensazioni Per noi la cosa interessante dal punto di vista divulgativo è analizzare le diverse situazioni a cui la gente viene esposta e tentare un percorso per comprendere quando e quali tipi di situazioni siano analizzabili con la pancia e quali no Ma questo da cosa è reso possibile? Dal fatto che c'è una sorta di memoria della pancia? La memoria sì, ma non sta nella pancia, sta nel cervello cioè sta in quelle aree che ricevono le informazioni da tutto il corpo Adesso io mi sono concentrato sulla pancia anche perché è la parte su cui sappiamo di più ed è quella su cui lavoro io nello specifico al San Raffaele di Milano ma in realtà l'integrazione viene da informazioni che arrivano da tutto il corpo e la memoria viene costruita generando, registrando ripetute volte le informazioni di tutto il corpo alle situazioni che ci circondano Questo riguarda diversi tipi di emozioni, dalla paura a quelle invece positive? Esatto, tutte le emozioni per quanto ne sappiamo ora si sono evolute come un modo di rappresentare queste informazioni che arrivano dal corpo tutte le emozioni Poi ovviamente nella nostra strada evolutiva complessa in cui abbiamo sviluppato cervelli complessi abbiamo imparato a utilizzare le emozioni anche per altre cose quindi anche per esprimere sentimenti, relazioni sociali eccetera ma di base tutte le emozioni sembrano essere la rappresentazione di quello che il nostro corpo sta facendo Oggi stiamo finalmente capendo che il sistema gastrointestinale influenza l'attività del cervello e quindi influenza l'attività del sistema di controllo di tutto il corpo quindi quello che stiamo tentando di fare è attraverso una stimolazione adeguata del sistema gastrointestinale riuscire a influenzare il sistema immunitario, il sistema metabolico e quindi agire su quelle grandi patologie tipo autoimmunitarie, degenerative o metaboliche come diabete e obesità attraverso un meccanismo nuovo cioè tentando di trovare una strada diversa da quello che è stato fatto finora che in alcuni casi è stato molto efficace e in altri meno è anche la prima donna di questo Focus Light prima donna a Pneinstein mettersi nella vasca di Focus Light per un'altra cosa oppure tanto la giusta c'è una indicazione di controllo di tutto il mondo siamo arrivati a... il sistema del re dell'attività che si fa già la situazione della via di controllo di tutto il mondo non è un'altra cosa ma 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 non è un'altra cosa abbiamo concluso il nostro percorso all'interno di Focus Light abbiamo attraversato padiglioni, ascoltato relatori e scoperto e visto tantissime cose interessanti e anche rivolte al futuro grazie a tutti i protagonisti di questo spazio grazie come sempre a tutti voi per averci seguito e arrivederci